A Modena, giro di vite contro l'alcolismo giovanile, il Comune barerà un'ordinanza che prevede alcol test anche per i pedoni e multe ai minorenni inviate direttamente ai genitori. Anna Maria Cremonini. Penso che sia una cosa molto utile, anche perché in alcuni casi penso che i genitori possono essere anche all'oscuro di tutto. A me seccherebbe molto, però dovrebbero essere informati. Lei vorrebbe saperlo? Io vorrei saperlo, assolutamente sì. E secondo me è anche l'unico modo per poter aiutare un po' questa situazione che secondo me sta un po' sfuggendo di mano. Penso che sia giusto così. Unanime l'opinione all'ombra della Ghirlandina, dalla stessa parte giovanissimi e adulti, così come unanime bipartisan, dalla stessa parte giunte opposizione, è stata quella del Consiglio Comunale di Modena, che ha approvato un ordine del giorno per contrastare l'uso e l'abuso di alcol tra i minorenni, chiedendo al sindaco, che la sta già studiando, di mettere un'ordinanza che preveda innanzitutto più controlli e più sanzioni a chi vende e somministra alcolici, ma anche che nel momento in cui il minore di 18 anni viene colto in stato di ubriachesse, cioè ha bevuto abbondantemente, viene elevata contravenzione nei suoi confronti, cioè elevato il lecito amministrativo e il verbale viene notificato ai genitori. Se fosse capitato a te quando eri minorenne... Eh, non... mi dispiaceva.